Immaginate come potrebbe essere il mondo se non doveste mai ricaricare la vostra auto elettrica parcheggiando sempre all'esterno e ponendo ci sia sempre il sole il che in realtà non è particolarmente realistico oggi facciamo un resoconto delle auto elettriche alimentate ad energia solare e del perché non tutte le auto elettriche montano pannelli solari Nell'ultimo anno sul canale vi ho portato alcune case automobilistiche che hanno puntato tantissimo sull'energia solare sdoganando questa tecnologia che inizialmente veniva utilizzata per progetti scientifici o gare molto peculiari come nel caso della World Solar Challenge una gara nata 35 anni fa che mette in competizione le università di tutto il mondo ma anche grandi costruttori in alcuni casi in una gara che taglia a metà il deserto australiano per una lunghezza di oltre 3000 km tutto questo come suggerisce il nome con l'utilizzo di solamente auto alimentate ad energia solare chiaramente le case automobilistiche che vi ho portato qui sul canale che implementano queste tecnologie solari non possono permettersi di avere solamente dei pannelli solari per la ricarica e l'autonomia del veicolo infatti possono essere attaccate anche alla corrente specialmente nei casi di nuvolosità o ovviamente la notte detto questo se le aziende che vi ho portato qui sul canale hanno deciso di montare questi pannelli solari perché non tutte le aziende automobilistiche montano pannelli solari sopra i propri veicoli per la ricarica delle loro auto ed i fattori sono davvero molto vari l'efficienza dei pannelli solari è molto variabile infatti dipende molto dal meteo esterno e dal cambio ovviamente giorno e notte ma anche dall'angolatura a cui viene colpito il pannello dai raggi solari ed è per questo come dicevo prima che in queste auto come abbiamo già visto è stata implementata una ricarica via cavo secondo gli studi della dottoressa Bonna Newman che attualmente è senior researcher sul fotovoltaico per l'organizzazione olandese per la ricerca scientifica applicata nell'ultimo decennio l'efficienza dei pannelli solari è aumentata di circa il 40% andando però a ridurre il costo e la complessità del 70% ad oggi infatti vediamo sempre più auto montare dei piccoli pannelli sopra il tettuccio come abbiamo visto nella IONIQ 5 che però di solito vanno a controllare solamente l'impianto di climatizzazione questa riduzione di costo e aumento di efficienza hanno spinto alcune startup a creare dei veri e propri veicoli che si basassero molto di più su questa tecnologia e che non debbano essere costantemente attaccate alla corrente quindi quanto riescono a ricaricare questi veicoli essendo lasciati un giorno intero al sole? uno di questi veicoli è la tedesca Sion Sono Motors che con un'intera giornata di sole dovrebbe permettere un'autonomia di all'incirca 16 km che ovviamente non è tanto ed avrà una batteria che consentirà fino a 305 km avendo un prezzo di solamente 30.000 euro quest'auto è stata pensata per essere più un'auto elettrica convenzionale che sia pensata per le famiglie e per le tasche del consumatore comune di seguito abbiamo l'olandese Lightyear con la Lightyear One che monta fino a 5 metri quadri di pannelli solari che permettono un'autonomia con un singolo giorno di ricarica di ben 70 km che è già decisamente meglio rispetto alla Sion Sono Motors inoltre l'autonomia totale dell'auto sarà di ben 720 km all'incirca ma questa autonomia si fa pagare e anche tanto dato che costerà intorno ai 150.000 euro inoltre ne verranno costruiti pochi esemplari per la precisione 946 che è un riferimento al nome infatti un Lightyear ovvero hanno luce equivale a 9,46 mila miliardi di chilometri ed infine abbiamo la californiana Aptera di cui ho parlato proprio all'inizio di questo canale questo veicolo a differenza delle altre due out di cui abbiamo parlato poco fa avrà solamente tre ruote ed è decisamente quella più eccentrica tra queste secondo Aptera sarà possibile percorrere in un giorno di sole ben 64 km con l'autonomia del veicolo che raggiunge addirittura i 1600 km e tutto questo ad un prezzo di solamente 23.000 euro è chiaro che questi dati sono forniti da Aptera quindi c'è da prenderli con delle pinze microscopiche Aptera e l'ITR inoltre hanno dichiarato che i loro veicoli saranno pronti per iniziare le vendite già verso la fine del 2022 quindi non vedo l'ora di poterli vedere in azione e magari poterli testare perché no? la domanda comunque rimane perché non si montano dei pannelli solari su tutte le auto elettriche? il problema nasce dal fatto che seppur negli anni l'efficienza dei pannelli è aumentata un pannello solare posto sopra l'auto deve essere rinforzato per essere resistente da qualsiasi impatto che potrebbe colpirlo ad alta velocità e questo comporta degli strati aggiuntivi che vanno a ridurne l'efficienza senza contare che mentre un veicolo si muove l'esposizione del sole varia decisamente in modo rapido non avendo sempre lo stesso introito di energia ma la cosa più importante è che questi veicoli sono stati pensati appositamente per essere più aerodinamici e leggeri possibili andando così ad aumentare l'efficienza totale del veicolo non incrementando solamente l'estensione del pannello solare che comunque non ha tanto spazio su un'auto infatti come possiamo vedere nella Sion Sono Motors hanno dovuto applicare i pannelli solari o meglio le celle solari sui pannelli laterali delle portiere cosa che in realtà ritengo quasi del tutto inutile dato che il sole difficilmente colpisce lateralmente le portiere sarebbe stato meglio magari da parte loro concentrarsi sulla parte superiore piuttosto che aggiungere dei pannelli laterali andando ad aggiungere magari il prezzo a questi veicoli il motivo del perché i grandi automaker decidono di non intraprendere la strada di creare un veicolo solamente solare è molto semplice in realtà per loro bisognerebbe partire da un design completamente nuovo e pensato specificatamente per essere più aerodinamico e leggero possibile come dicevamo prima mantenendo però i loro segni distintivi dato che non possono permettersi dei design davvero radicali come potrebbero essere quelli di Lightyear o appunto Aptera insomma per le grandi compagnie automobilistiche non ne vale la pena di sprecare capitale in qualcosa di così rischioso e che probabilmente non li farebbero rientrare degli investimenti fatti soldi si ritorna sempre lì in ogni caso le auto solari stanno arrivando e chi lo sa magari un giorno potremo vedere queste tecnologie e studi applicati su la maggior parte delle auto elettriche di tutti i giorni fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi delle auto solari non dimenticatevi inoltre di mettere un mi piace iscrivervi al video se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina degli avvisi per non perdere nessuno dei prossimi video noi ci vediamo in un prossimo video grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille